bella a tutti ragazzi l'oxiderone è qua con voi anche oggi nuovo video di clash royale ho voluto farvi vedere uno dei deck che si sta più utilizzando in queste ore e che sta entrando lentamente in meta come vedete è una variante che si può utilizzare con log rider o grader che rimane la nostra truppa d'attacco principale supportata da ben tre spell terremoto palla di ghiaccio e tronco in difesa abbiamo il cavaliere e la torre bombardiera e arcieri con gli scheletrini li possiamo utilizzare diciamo come jolly quindi per difendere le truppe aeree oppure per deviare le sue truppe insomma andiamo a vedere un attimino come si comporta in ladder siamo contro ross dei pepper no mind che gioca subito una fornace che io personalmente comincerei a danneggiare un momento perché nel momento in cui entra il cavaliere noi possiamo partire con log rider attenzione diamo se una truppa leggera ok mago elettrico va bene ci può stare andiamo a difendere con la torre bombardiera scheletrini per deviare come vi dicevo prima arcieri invece dall'altra parte torre bombardiera che insieme alle torri ci aiuta tantissimo ora purtroppo il boscaiolo ha lasciato la furia ma non abbiamo subito troppi danni solamente due attacchi da parte del mago elettrico attenzione alla fornace di nuovo che andiamo come sempre a terremotare non mi piace la fornace come come carta non mi piace perché è molto forte quindi sempre meglio toglierla dai piedi dovrebbe giocare esatto il cavaliere qui noi possiamo decidere se fare quello che abbiamo fatto prima forse l'abbiamo fatto leggermente in ritardo vediamo se funziona mago elettrico ancora per lui ok con un leggero ritardo non tiriamo neanche un aiuto che pesante torre bombardiera di nuovo che invece ci aiuta molto meglio insieme alla torre abbiamo già tolto il mago elettrico e quindi possiamo rimanere con una difesa solida attenzione devastante il gigante royal lui sarà pronta a mettere giù la fornace sicuramente invece va a zappare cavaliere davanti eccola lì la fornace perfetto si fermano gli arcieri terremoto va bene va bene terremotare così va bene va bene va bene va bene giù la fornace giù la fornace giù la fornace perfetto abbiamo danneggiato il cavaliere abbiamo danneggiato la fornace abbiamo danneggiato anche la sua torre lasciamo che ci pensi la mia di torre subiamo un paio di danni uno solo una sola hit dal cavaliere non è affatto male è pericoloso giocare in difesa infatti lo sapevo che lui avrebbe preparato un grande attacco ma siamo obbligati se volessimo counterare bene il suo attacco falla di neve sui pipistrelli via quelli dobbiamo toglierli seconda torre per deviare il suo gigante royal e adesso si parte peccato essere partiti leggermente in anticipo non mi aspettavo il fulmine ma sempre comunque la terremoto per andare a dar fastidio portiamo la torre a 1654 non mi aspettavo assolutamente il il fulminozzo deviamolo sempre deviamolo sempre non c'è fretta non c'è fretta non c'è fretta bene così bene così adesso andiamo adesso andiamo esatto 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 lui va a giocare giustamente le sue truppe di punta andiamo a deviare aspettiamoci il suo cavaliere di nuovo non voglio che vengano toccati scusatemi il suo gigante royal facciamola entrare un secondino e poi boom ancora un tronco è la prima volta che lo utilizziamo in realtà in questo game non era necessario manteniamo manteniamo solido lui adesso gioca la fornace esatto noi andiamo a togliergliela con il nostro terremoto e abbiamo ben quattro tre arcieri scusatemi che stavano dando un po fastidio di nuovo lui rientrerà attenzione ok l'importante è fermare prima il mago elettrico e poi di nuovo nel momento in cui entra via anche con la palla di neve la sua serie di pipistrelli di nuovo la fornace dovrebbe giocare ed eccola qui gliela facciamo così gliela facciamo raga andiamo 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 qua abbiamo giocato molto bene il nostro grader guardate come cicla guardate come cicla god ma di come cicla god vediamo se riusciamo a tirare dentro una hit con la palla di neve che riesce a spostare le sue truppe una sbocciata fantastica o grinder che può entrare con una martellata finale e darci la vittoria molto molto bene sto giocando ragazzi con la terremoto mi sembra al 12 e la torre bombardiera al 12 quindi il ladder stiamo andando bene sta girando splittiamo ancora gli arcieri è sempre un'apertura anonima contro l'aic 12 dei letuva arco giusto potevo giocare dall'altra parte pensavo che avesse giocato la valkyrie non è un problema ok fornace anche per lui come sempre spingiamo sulla torre di destra il terremoto sempre sulla fornace la fornace non deve generare vuole giocare ok attenzione ok qua non è facilissima la situazione perché c'era l'arciere magico che dava fastidio riusciamo a non subire il doppio danno dall'arciere magico abbiamo il cavaliere che può entrare io supporterei l'attacco con uno grinder gli arcieri dietro possono essere molto utili cavaliere che è stato giocato con me con un attimo di anticipo qui guardate come giochiamo gli scheletrini andiamo a mettere centrali sul suo boscaio nel momento in cui entra lo andiamo a spostare in modo che anche la seconda torre no peccato non è riuscita la seconda torre allo carlo boscaiolo che ci tirerà un paio di hit una sola 2700 va bene va bene va bene lui adesso giocherà la fornace può essere noi ci vediamo obbligati a ciclare un tronco non è un problema non gioca la fornace lo gioco un pochettino alto il cavaliere perché non mi fido non capisco non capisco quale sia la sua idea perché non gioca la fornace siamo alti lo giochiamo corto il terremoto non è un problema lo giochiamo corto lo giochiamo corto l'importante è togliere log rider la torre bombardiera aveva già loccato guardate che difesa ragazzi aveva già loccato lo stregone di fuoco noi possiamo entrare con due arcieri full adesso giocherà il boscaiolo probabilmente per supportare ok ok ragioniamo un attimino cicliamo un tronco che ci serve per evitare che gli spiriti del fuoco diano fastidio non abbiamo purtroppo il terremoto perché siamo stati obbligati a ciclarlo ma vediamo se l'ha giocata male infatti l'ha giocata male perfetto 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 boscaiolo lo deviamo o grader che riesce a tirare un po di hit turi bombardiera per deviare il suo grader sostenuto subito dagli arcieri dall'altra parte però eccolo lì infatti quello che volevo evitare non devono prendere gli arcieri terremoto ancora molto basso non devono toccare la torre non devono toccare la torre piuttosto mettiamo piuttosto andiamo a giocare così ancora in difesa ancora in difesa non è un problema è fatto apposta attenzione perché qua stanno entrando di brutto è è l'arcere magico è devastante l'abbiamo potuto togliere subiamo danni dal suo dal suo cavaliere andiamo con bravo 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 riuscito a far entrare bene l'ho grider però anche noi facciamo entrare bene il nostro dio grider che tira due legnate giù la torre e andiamo a difendere tutto let's go let's go let's go andiamo a chiudere anche il secondo game molto molto bene molto molto bene siamo riusciti a fare dei danni continuativi continuati con lo grider e questo ci ha permesso ovviamente di danneggiare piano piano la sua torre e con lo grider che è entrato nel momento in cui non aveva la fornace abbiamo completato l'opera 10.000 di gold per il livello 31 del pass battaglia 1324 in questo momento tra l'altro ragazzi ho potenziato la torre solo per questo video perché mi piaceva tantissimo quel deck vi ricordo di lasciare un pollicione in su ragazzi mi raccomando mettetelo un like non dimenticatevi e un commento qua sotto io ci vengo tanto a leggerli li leggo anche in live insieme a voi fatelo non vi costa niente 55 gang di goblin 14 torre inferno facciamo l'ultimo game di oggi vediamo se riusciamo a fare la tripletta contro joseph del clan al ricordo ragazzi giocate sempre le carte quando siete a nove e mezzo di elisir modo da non regalare neanche un millesimo di secondo all'avversario via parto parto via 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 pronta la palla di neve pronta la palla di neve ok bocciatore è che molto interessante quello che il bocciatore ok lui ha speso tantissimo per counterare questo grinder ma noi potremmo fare questi danni abbiamo un problema un problema abbastanza ha giocato male questo tronco ok 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 volevo che non lo casse la torre ma fa niente si è quello la cosa che mi dispiaceva il cavaliere dai cavaliere dobbiamo giocare così non voglio subire danno non voglio subire danno voglio voglio rimanere ancora a zero psicologicamente molto è molto importante non subire subito i primi danni vediamo se gli arcieri mi aiutano a meno che lui non ha le frecce dovremmo essere coperti più o meno più o meno potevo giocare un pochettino più più centrali in realtà gli arcieri va bene abbiamo subito qualcosina dai suoi sgherri va bene va bene 3284 mago di fuoco bocciatore sgherri cavaliere non so dove il suo attacco e questa cosa mi disturbo abbastanza non ho capito con cosa attacca lui per bombardiera eccolo qua al suo attacco voglio spostare un pochettino più centrale il gigante royal esatto se è un attacco che non è un attacco violento ma un attacco bastardo perché adesso lui sa quel bocciatore o questo un attacco violento ok deve loccare il bocciatore i miei arcieri perfetto io veramente regalato un danno così grosso va bene non è un problema dai c'è un po un problema in realtà bello questo l'ho usato anch'io tanto il peccone nel main ed è veramente god vediamo se lo riusciamo a deviare sì dobbiamo andare a giocare ancora quattro bombardiera perché altrimenti c'è la sbriciola non possiamo arco giuda non possiamo è bravo 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 bel deck bel deck bel deck gli gira veramente god è lì sì 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 persa persa perché gli gira veramente god no non riesco a incontrarli grande 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 va bene la perdiamo così un gran giocatore si vede anche quando accetta le sconfitte e questa è una sconfitta che mi merito deck molto molto chiuso bocciatore beccone tronco cavaliere ci sta signori io spero che vi sia piaciuto anche oggi il video di clash royale provate questo deck non ve ne pentirete vi mando un abbraccio grande un bacione vi ringrazio noi ci vediamo al prossimo video ciao